allora ecco qua un po' di tibo giapponese allora i sushi classici giapponesi migliori di quelli che fanno in Italia questo panino con pezzetti di cioccolata dentro dolce panino dolce molto buono che lo consiglio a forma panino ma non panino è come se lo fosse poi va beh questo questa specie di tramezzino gigante diciamo così ha il gusto fragola con la fragola molto buono poi va beh questo questo hamburger giapponese molto buono anche questo ve lo consiglio a tutti veramente una specialità incredibile ma hanno un gusto veramente fenomenale questi cibi poi va beh c'è il classico diciamo così panino ma diciamo la forma di due panino dolce va beh questo è tipo una brioche molto buona che la consiglio a tutti li trovate sui supermercati insomma queste cose qua ma sono molto buoni veramente poi questi sushi qua che vedete sono molto grandi ti saziano bene sono molto buoni e costano molto meno che in Italia provate ad andare a vedere dei pezzi così di sushi in Italia beh con 5 euro ne ho presi 8 di questi 5 euro neanche 5 euro e ho mangiato bene 5 euro ne ho presi 5 euro ne ho presi 9 euro ne ho presi un piacere di sentito